E ancora una volta bentrovati. Quando leggo qualcosa su Pietro Novelli, pittore e architetto monrealese di nascita ma palermitano di edozione, mi si apre il cuore perché di Pietro Novelli se ne parla molto poco. Eppure tante opere di questo pittore, nato appunto a Monreale nel marzo del 1603, sono sparse in numerose chiese siciliane ed esposte nei migliori musei d'Europa, anche a termini venese e a Trabbia. Ma poi vi dirò. Però della sua vita, della sua vita umana, ne sappiamo ben poco per il poco interessamento degli storici e della stampa in genere. Intanto però vi invito ancora una volta ad iscrivervi al mio canale YouTube per ricevere in anteprima i miei video, video di cultura, arte, storia e letteratura. Cliccate qui sull'icona rossa all'angolo destro dello schermo e, se l'avete già fatto, sicuramente l'avrete già fatto, riprendo a raccontarvi la storia di Pietro Novelli. Per iniziare sappiamo che è figlio di Pietro Antonio Novelli, un pittore mosaicista che, anche se non eccelso, è per la verità molto ricercato tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. Lui, il giovane, da Monreale si trasferisce il giovanissimo a Palermo e, a 15 anni, va a bottega presso tale Vito Carrera, un pittore trapanese piuttosto noto allora chiamato nel capoluogo per decorare all'interno del Palazzo Reale. Il Novelli, a 19 anni, inizia la sua vera attività artistica e lo testimoniano le diverse opere eseguite nelle chiese palermitane sin dal 1622. Nel 1623 sposa Costanza di Adamo e diventa così palermitano a tutti gli effetti. Quegli anni sono per Palermo un periodo d'oro, si registra infatti un grande fermento dovunque. Ad esempio, in via Macqueda si costruiscono chiese e monumenti, si eseguono grandi abbellimenti nel Palazzo Pretorio e nel Palazzo Reale. Essi susseguono in continuazione feste e cerimonie pubbliche. E quindi numerosi sono gli artisti interessati al grande cambiamento che arrivano a Palermo in cerca di lavoro e di notorietà. A Palermo in quel periodo potrebbe aver messo piede anche Caravaggio, però non disponendo di una attendibile documentazione sono più i no che i sì. Quindi Caravaggio non sarebbe stato mai a Palermo ma solamente in altre città siciliane. C'è da dire però che si rileva l'influenza del Caravaggio su diverse opere del Novelli. Forse perché il monorealese frequenta spesso l'oratorio di San Lorenzo dove è esposta la magnifica natività del Merisi che purtroppo, come a tutti noto, viene trafugata nell'ottobre del 1969 e mai più ritrovata. Nel 1624 muore il padre a seguito della peste che in quell'anno fa oltre 3.000 vittime nello solo a Palermo. Un'amara circostanza questa, addolcita però dalla nascita del primo genito Pietro Antonio. Poi lui ebbe anche un'altra figlia. Nello stesso periodo il Novelli ha la fortuna di incontrarsi a Palermo con il grande pittore fiammingo Anton Van Dyck, chiamato alla corte del vice re Emanuele Filiberto di Savoia per eseguirne il ritratto. Da quel momento, diciamolo pure, si apre il periodo creativo di Pietro Novelli con l'acquisizione di uno stile personale che gli consentirà di diventare uno degli artisti più ricercati a Palermo e non solo. I viaggi di Novelli hanno una grande importanza nell'evoluzione della sua pittura. Visita Roma tra il 1622 e il 1625 dove ha modo di studiare i maggiori pittori del Rinascimento e nel 1630 va anche a Napoli dove si confronta con le opere di alcuni pittori naturalisti che lo incoraggiano a sviluppare una pittura più realistica. Nel 1636 viene eletto dal senato palermitano ingegnere ed architetto della città e per tale carica presiede alla costruzione di Porta Felice e alla pavimentazione di Via Macqueda nonché ad altri numerosi lavori e progetti pubblici. Il 22 agosto del 1647, durante i tumulti capeggiati Natale Giuseppe D'Alesi, un masaniello siciliano di polizia generosa, disordini che si accendono in piazza Vigliena, riceve una ferita d'arma da fuoco che purtroppo gli costa la vita. Pietro Novelli muore infatti cinque giorni dopo, il 27 agosto, a soli 44 anni e i confratelli della Compagnia del Rosario di San Domenico lo fanno tumulare nel cimitero annesso al convento. Cosa dire? Sono convinto, così come lo sono tanti critici, che se Pietro Novelli fosse vissuto più a lungo sarebbe divenuto il più grande pittore del Seicento italiano. Siciliano lo è già stato. Quali sono le opere più importanti di Pietro Novelli? Mi chiederete voi. È difficile portarle alla vostra attenzione nell'arco di alcuni minuti. Vi consiglio però di documentarvi consultando, se vi è possibile, questa bellissima pubblicazione di Guido di Stefano. Pietro Novelli, il monrealese, con prefazione addirittura di Giulio Carlo Argan, pubblicata da Flaccovio nel 1989 e corredata dalle migliori opere del nostro artista. Una pubblicazione che, consentitevelo, conservo gelosamente. La sua prima opera è del 1629 ed è un affresco, l'affresco del Refettorio Benedettino dell'Abbazia di San Martino delle Scale a cui fa seguito nel 1630 una delle sue opere più suggestive, l'affresco dell'oratorio del Rosario di San Domenico. E poi se ne sono tantissime nelle chiese palermitane siciliane e in diversi musei, tra cui la galleria regionale di Palazzo Abatellisi, a Catania, Palazzo Ursino ed anche in Spagna, Malta, Ungheria, Austria, direi un po' dovuto. Ma andiamo con ordine e voglio cominciare proprio dalla Spagna, dove a Madrid, nella Reale Accademia di Belle Arti di San Fernando, è esposta Santa Rosalia in Gloria, una delle più belle opere del nostro Pietro Rovelli. Torniamo a Palermo e qui mi perdo perché non so da dove cominciare. Sì ragazzi ma dobbiamo pur cominciare, frattanto avete visto proiettate sul grande schermo alcune delle sue opere che ci lasciano la testimonianza di questo suo periodo storico così inquieto e malinconico. Partiamo dal Museo Diocesano a Palermo, un museo fondato nel 1927 ed è fra i primi musei diocesani in Italia, un museo che raccoglie oltre 250 opere provenienti da chiese palermitane distrutte o definitivamente chiuse. qui troviamo, ecco una foto, la Madonna del Carmelo attorniata dai Santi. Nella chiesa di San Matteo ancora un olio, lo sposalizio della Vergine. Mi fermo un poco così avete modo di vedere. Ed ancora nelle sale della Galleria regionale della Sicilia c'è tanto, ma tanto da vedere. Ecco solo alcune opere. San Pietro liberato dall'angelo e poi l'incoronazione di San Casimiro. Ci trasferiamo nella chiesa di Sant'Orso, sempre a Palermo, con la Madonna, con il Salvatore Mundi. Molte opere si trovano in collezioni private, come ad esempio questo autorritratto. Dicevo, sono solo poche opere che posso qui rappresentare, ma sono centinaia. Centinaia da vedere in tutta la Sicilia ed anche in Europa. Passiamo alla Cattedrale di Palermo ed eccola qui, Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco Saverio. Ci trasferiamo a San Martino delle Scale nella chiesa dell'Abbazia dove troviamo la Madonna tra i Santi Benedetto e Scolastica. Ancora un'altra bella tela nella chiesa di San Nicolò Tolentino, Sant'Agostino inginocchiato ai piedi del Cristo. Chiudo con un capolavoro, l'Immacolata Concezione che si trova nell'omonima bellissima chiesa che trova sempre a Palermo al Capo. Anche a Trebbia dovrebbe esserci un Pietro Novelli ma ritengo opportuno non citarne il luogo né postare l'immagine. Capirete bene perché. Una doverosa cautela. Bene, invece a Termini Venese, al Museo Civico, è esposta una gran bella tela, una immacolata che attorno al 1830, da parte di eruditi locali, non fu più ritenuta opera di Pietro Novelli ma declassata addirittura ad opera di bottega. Una valutazione forse molto affrettata. L'immacolata che abbiamo a Termini è senz'altro del Novelli ed è la superba qualità del quadro che ne attesta la paternità. Bene, stiamo per finire ragazzi. Per concludere, dobbiamo pur concludere, come dico sempre, per concludere, Per concludere Pietro Novelli nelle sue opere dimostra di sapere armonizzare la luce creando composizioni ricche di colore e movimento, riuscendo a, come dire, a catturare espressioni intense che lo rendono maestro nell'arte del ritratto e della pittura storica, soprattutto quella sacra, dove esprime la drammaticità attraverso, appunto, l'uso del colore e delle forme. Innubbiamente, come dire, Pietro Novelli con le sue opere in gran parte legate a contesti religiosi ha arricchito il patrimonio artistico della nostra Sicilia durante il periodo barocco. Un patrimonio che ancora oggi ci ritroviamo, direi, integro e che dimostra l'abilità del monrealese, che i musei di tutto il mondo ci invidiano, che dimostra come sapere ornamentare chiese e spazi sacri, cosa che il Novelli ha saputo fare. Un pittore oggi ancora pressoché sconosciuto al grande pubblico, ma voi che mi seguite da oggi cominciate ad avere cognizione di Pietro Novelli, salvo, ovviamente, chi ne ha già conoscenze. Alla prossima! A presto! A presto!